Siamo Nico che sta approcciando, sta attaccando il bottone con una ragazza, addirittura gli alza la gamba in faccia Sembra stia pisciando come un cane Aspettiamo un altro pochino, sta cercando insomma di guardare un attimo la ragazza più da vicino La ragazza addirittura legge un libro e lui si gratta la testa, vuol dire che è sudata questa rimorchiata oggi Niente, ma addirittura tocca! La ragazza ha toccato il pacco di Nico Addirittura ha toccato il pacco di Nico, Nico alza la gamba vuol dire toccano ancora E lei lo ritocca ancora! Questo è amore ragazzi, è amore Ancora sa la gamba come un cagnolino arrabbato Questa sembra quasi la sua aiuola Ciao a tutti ragazzi, uccidiamo la nostra ragazza dato che noi abbiamo moglie Non vogliamo, non so, che parli in giro della nostra relazione Alza le mani, ciao bella, ho una moglie, corri, corri, corri L'ospedale è lì davanti, ciao bella Commentate e iscrivetevi, ciao! Ciao!